E tu? Dove preferisci comprare? In un supermercato o al mercato? Vediamo le espressioni utili. Buongiorno signora, buongiorno. Cosa desidera? Vorrei un pacco di spaghetti, un litro di latte, una bottiglia di vino. Bene. Qualcosa altro? No, grazie. Sono le otto e quaranta. Arrivederci e grazie. La prima parola dopo i saluti è VORREI, che ci serve a chiedere qualcosa in modo gentile. Quando poi chiediamo le cose che vogliamo, abbiamo tre possibilità. Possiamo dire semplicemente la cosa che vogliamo, senza precisare la quantità. In questo caso, usiamo le preposizioni articolate del, dello, della, del con apostrofo e diciamo del parmigiano, dello zucchero, della carne, dell'acqua. Possiamo dire la quantità delle cose che vogliamo. Un pacco di spaghetti, una bottiglia d'acqua, una scatola di pomodori pelati, circa mezzo chilo di carne, un litro di latte. Ricordate, la domanda è Quanto pesa? Quant'è? Quanto costa? Quanto pesa? Quant'è? Quanto costa? Cosa dobbiamo imparare? La quantità? Vorrei Un chilo di miele Cento grammi di mortadella Un pacco di pasta Una scatola di pomodori pelati Un vasetto di Nutella Tre lattine di birra Una tavoletta di cioccolato Una scatoletta di tonno Tre fette di carne di manzo Un litro di latte Una bottiglia di vino Mezzo chilo di carne macinata Cosa notiamo? La quantità è sempre seguita dalla preposizione di Quanto ne vuole? Vorrei del parmigiano Quanto ne vuole? Lo vuole stagionato o fresco Vorrei dell'uva Quanta ne vuole? Le vuole bianca o nera? Vorrei dei peperoni Quanti ne vorrei? Li vorrei verdi o gialli? Vorrei delle olive Quante ne vorrei? Le vorrei nere o verdi? Più ne vorrei nelle Quanto ne vorrei Letizion